Senta, il professor Moretto è stato pierevolissimo parlare con lei, le pongo l'ultima domanda. Allargando i confini, come con lei si deve fare, perché si parla dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non posso non farle questa domanda. Nel contesto geopolitico e ambientale odierno, lei capisce che cosa intendo dire, una guerra in corso e tante altre situazioni, il tema del food security viene ad assumere, secondo lei, una importanza veramente centrale? Se per food security intendiamo la possibilità di avere accesso ad alimenti in quantità sufficiente, io credo di sì, perché ci sono una serie, adesso io non sono un esperto, quindi ho contatto ovviamente con gli esperti che parlano di queste cose, però il problema legato al fatto che l'Ucraina e la Russia producevano purtroppo, una grande quantità delle granaglie che noi utilizziamo, dei fertilizzanti che noi utilizziamo, pone certamente dei problemi di fornitura degli alimenti. D'altra parte, questo porta con sé, questa carenza porta con sé un aumento dei prezzi, che ovviamente non farà che aumentare la disparità tra le nazioni a alto reddito e le nazioni a basso reddito. E sarà comunque un tema che potremo affrontare con lei anche più avanti. E un altro tema con lei dovremo affrontare, che è quello proprio della medicina del lavoro. In questa serie di nostre pubblicazioni sarà centrale anche quell'argomento. Con noi è stato il professor Angelo Moretto, docente dell'Università di Padova, direttore di medicina del lavoro dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova, nominato membro di questo comitato consultivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, proprio sul tema della sicurezza alimentare. Dirle che è stato un piacere parlarle, e poco rispetto al piacere di aver potuto avere da lei le informazioni concrete e chiare che lei ci ha dato. Le auguro di cuore, buon lavoro per il suo moretto. Grazie a lei.